Anticipazioni tempesta d'amore. Mercoledì 24 giugno 2020. Poco prima del matrimonio Jessica inizia una violenta discussione con Annabelle che rovina l'abito nuziale della ragazza. La brocosta è molto dispiaciuta e decide di annullare le nozze. La Sullivan poi continua a flertare spudoratamente con Paul e gli dice che solo grazie a lei che Luna è ancora viva. Il Lindenberg si lascia plagiare dalla donna e la invita a bere qualcosa. Successivamente i due decidono di allenarsi insieme. Lucy lo scoprirà? Franzi vuole concentrarsi unicamente sul lavoro e fare carriera. Non ne vuole più sapere degli uomini. All'improvviso però si ritrova in una situazione molto imbarazzante e Tim per cacciarla fuori dai guai è costretto ad offrirle il suo aiuto. Linda deve ammettere che il bacio che Dirk le ha dato ha riacceso in lei sentimenti forse mai sopiti del tutto. La donna decide di essere sincera con André e gli racconta quanto accaduto. Lo chef non prende la notizia nel migliore dei modi. Dirk poi inizia a punzecchiare il Konopka. Christoph interviene. La donna decide di essere sincera con André e gli racconta.